Grazie a tutti 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 1-2 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Pronti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Equilibrio Grazie a tutti Equilibrio Cu-e-e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Plié, allongé, due rondes parterre, sette, otto. Avanti, cu des pieds développés arabesque, e ancora due parterre, e otto. 90 gradi avanti, seconda, en l'air, en l'air, double rondes en l'air, tendu, demi rondes dietro, un grand rondes jeté, passe parterre. Quindi abbiamo uno in plié, stendo, due parterre, 45 développés, due parterre, 90, 90, en l'air, en l'air, double en l'air, tendu, demi rondes, jeté, grand rondes jeté. Quindi, sette, otto, e plie, e stendo. Voi due parterre, pan, 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 pan. 90 gradi sup, seconda, pan, 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 już tender, tengo rondes, ku des pieds 1969, rangeret, hop, passe parterre. Poi porto i bra, avanti, torno su, cambra indietro, torno su, tanto più dietro scivolo giù, torno su, arabesque, pancè, torno su, develop per seconda, quinta, chiudo davanti e dietro, cross attitude. Grazie. Grazie.